Voltare pagina, imparare dai propri errori, invertire la rotta, tutte espressioni che si sprecano oggi inoltre po', mentre enti, istituzioni e comparto privato lavorano a una serie di progetti finanziati da Unione Europea, Ministero, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Attività che nei prossimi anni porteranno inoltre po' qualcosa come 30 milioni di euro, se si comprende anche il corposo progetto cosiddetto delle aree interne, che riguarda in particolare la Valle Staffora. Un'occasione importantissima per rimettere in moto un territorio che ha mostrato più di altri difficoltà a riemergere dalla crisi. Per fare il punto abbiamo incontrato Riccardo Fiamberti, da poco eletto all'unanimità presidente della Fondazione Gall per lo sviluppo dell'oltrepo' pavese, destinataria peraltro di un cospicuo finanziamento da parte di Fondazione Cariplo e partner fondamentale in un altro progetto territoriale finanziato da Regione Lombardia per il comparto agricolo. Per quanto riguarda la Fondazione, in questa fase che non ha direttamente da gestire né il Gala SRL per quanto riguarda i bandi, né lo SNAI perché è il Comune di Varsi, faremo in modo di dare la massima collaborazione affinché questi progetti non vadano a sovrapporsi l'uno con l'altro. Io penso di poter incontrare tutti i nostri rappresentanti a livello provinciale, regionale, nazionale e anche europeo nei prossimi giorni per sottolineare questo aspetto. Tutti questi bandi vanno bene, sono importanti. Secondo me bisogna dare un taglio, specialmente quello del Gala SRL Star, dare un taglio più privatistico nel senso di aiutare le imprese che operano sul territorio, sia dal punto di vista agricolo, turistico e di altre attività commerciali e industriali. Penso che siamo arrivati a prendere la carrozza dall'ultimo treno che sta passando. Questa unità di intenti manifestata sia per quanto riguarda la Fondazione, sia dai sindaci, tutti i sindaci che ne sono soci fondatori e quindi comuni fondatori, sia da parte dei privati, se continua questa massima collaborazione che ha portato a questa elezione all'unanimità, secondo me riusciamo a fare qualcosa. Un aspetto non secondario, lamentato da diversi amministratori della zona, è che questa pioggia di finanziamenti attesa nei prossimi anni non potrà essere utilizzata nemmeno in piccola parte per quello che è da molti considerato il problema principale, le infrastrutture. Per dirla più semplicemente, non si potranno usare questi soldi per rimettere in sesto le strade, vero tallone d'Achille, del territorio. Abbiamo la questione della viabilità che è gravissima, abbiamo la questione del dissesto idrogeologico. Su questi aspetti, quasi sempre, su questi bandi non mettono lingua. Anche questo sarà un aspetto che la Fondazione, se ci riusciremo, metterà a fuoco, ma a fuoco pesantemente. I sindaci insistono su questo perché io in questi giorni ho fatto diverse presenze sui Valle Stafford, le ho fatte nell'alto, oltre il popoloese orientale, l'altra sera ero nella zona fra Volpare e Golferenzo. Ho fatto una strada che era un po' di tempo che non riuscivo a farla, non ho capito se era una strada o se invece erano avvallamenti creati appositamente per non far passare le macchine. Ma non è che le hanno create, è la terra che continua a muoversi. Qui dove stiamo parlando è un territorio dove sono state registrate il più grande numero di frane, piccole e grandi, di tutto l'oltre il popoloese. Qui dove stiamo parlando è un territorio dove sono state registrate il più grande numero di frane,